Francesca Fioretti e il dramma della morte del compagno David Astori, sei mio sole, scriveva l'ex GFina sui social, un amore grandissimo, una bimba piccola. E il matrimonio in vista, Francesca Fioretti e David Astori, una bellissima storia d'amore, culminata con la nascita di della figlia Vittoria, due anni fa. E interrotta tragicamente da una morte improvvisa e assurda, a Udine per vederlo l'ultima volta dopo i genitori di David, e i fratelli Marco e Bruno anche Francesca ha lasciato Firenze ed è arrivata a Udine per vederlo, per vedere il suo Davide un'ultima volta. 33 anni, ex modella, aveva partecipato al grande fratello e a Pechino Express, ma da due anni faceva felicemente la mamma. Sei mio sole, Francesca e Davide si erano conosciuti nel 2013, al compleanno di un amico comune. Ed è stato subito amore, da allora non si sono più lasciati. Sei mio sole, scriveva lei sui social al capitano della Fiorentina. E il matrimonio era nell'aria.